Sole, neve e paesaggi mozzafiato sono gli ingredienti vincenti degli impianti sciistici di Valtellina e Valkiavenna, che da ieri sono stati letteralmente presi d'assalto da sportivi e turisti pronti a godersi il lungo ponte dell'Immacolata nella nostra valle. Meta dei pellegrinaggi degli sciatori sono state le piste dell'Alta Valle, che ha scelto Bormio, Santa Caterina, Valfurva e Livigno è stato infatti premiato trovando i pendini nevati su cui sfogare la propria voglia di sport, grazie anche all'abbassamento delle temperature, che ha favorito la produzione di neve artificiale ad integrare il manto già presente in loco. Una schiara è imponente quella della magnifica terra, 23 km di piste aperte con 10 impianti funzionanti, che ha registrato quasi 4.000 ingressi. Soddisfazione anche a Santa Caterina, Valfurva, dove da domani sarà eccezionalmente aperta al pubblico la parte alta della pista Deborah Compagnoni. Gli intrepidi sciatori potranno così sfidare i pendii della sede della gara di Coppa del Mondo di discesa libera maschile. Livigno non resta certo a guardare. Accanto alle piste innevate di Carosello 3000, la schiara a Mottolino ha inaugurato anche lo snowpark, per regalare i momenti adrenalinici ai virtuosi dello snowboard. Piacevoli break nelle lunghe giornate di sport saranno garantiti dai punti di ristoro presenti nel comprensorio, ai quali da ieri si è aggiunto Cosmo, il nuovo locale di Mottolino situato alla partenza della telecabina. Un ponte all'insegna dei grandi numeri anche per la Valle Spluga, dove sono stati registrati 2400 ingressi, per un incasso del 7% superiore rispetto allo scorso anno nel periodo iniziale della stagione, prenotazione in aumento anche negli alberghi. Gli sportivi hanno potuto così divertirsi su decine di piste, approfittando dei diversi impianti aperti. La Caminovia Larici, le seggiovie Valdilei, Arlecchino e Cimasole, la funivia Groppera, la funicurale Sky Express e il Baby Park. Nel prezzo dello ski pass inoltre è compreso il bus navetta di collegamento con Mandesimo Paese, dalla zona della seggiovia Lago Azzurro. Un trend positivo condiviso anche dalla schiaria di Aprica, che ha potuto contare su un abbondante manto nevoso che ha garantito l'apertura di quasi tutti i tratti dei comprensori Magnolta, Palabione e Baradello, compresi i collegamenti che garantiscono il passaggio da un versante all'altro. I più giovani e i neofiti dello sci potranno poi mettere alla prova le proprie abilità presso i campetti, dove avranno l'occasione di affinare la propria tecnica prima di sfidare ben più altre pendenze. Gli alberghi del Paese Eurobico inoltre, a partire da Sant'Ambrogio, hanno visto l'arrivo di un abbondante flusso di turisti che, accanto ai proprietari di seconde case, hanno eletto Aprica meta ideale per il lungo ponte. I dati fin qui raccolti delinano dunque un quadro roseo per l'apertura degli impianti in provincia, pronti a regalare un inverno di grandi emozioni, come sottolinea l'assessore allo sport di Regione Lombardia Antonio Rossi. A tutti gli sciatori va il mio augurio per una stagione di divertimento e sport sui quasi mille chilometri di piste delle nostre montagne, dove, con lo ski pass unico regionale, è possibile assaporare la neve in tutte le stazioni sciistiche lombarde.